Tutto pronto alla Civitella per il concerto di questa sera di Venditti e di Gregori, un duo che farà arrivare spettatori da tutto Abruzzo. Sì, siamo veramente molto soddisfatti, già la città inizia a essere gremita di gente, questo significa far lavorare le nostre attività commerciali, le strutture ricettive sono tutte quante piene, tra hotel e B&B e questa sera ci sarà appunto questo evento molto importante presso l'arena della Civitella che ha previsto ormai già da parecchie settimane il tutto esaurito, quindi ci saranno circa 4.000 persone in città e sarà veramente un'occasione per l'economia delle nostre attività commerciali. Lo ricordiamo, la data era stata posticipata per un problema di salute di uno dei due cantanti, questa sera invece ci sarà spazio per ascoltare la loro musica e i loro brani. Sì, una tappa molto importante di questo tour unico nel quale si sono uniti due colossi della musica leggera italiana, quindi Antonello Venditti e Francesco De Gregori. La data, si ricordava, è stata posticipata per problemi di Covid che purtroppo ha contratto dello stesso De Gregori e invece questa sera ci sarà l'evento che è una delle poche date in Italia che terranno proprio a Chieti. Siamo soddisfatti, ripeto, perché oltre l'evento che ci assolutamente delizierà questa sera, ma è una, ripeto, una grande opportunità per l'economia della nostra città.